e benvenuti in questo spazio eccezionale tempo reale continua per un'altra mezz'ora per parlare di un fatto di cui probabilmente avrete già preso la notizia questa mattina nei primi telegiornali della mattina e già da internet anche il nostro sito news rimini ne dà notizia costernazioni a rimini per l'uccisione di vittorio arrigoni ne parliamo con andrea zanzini e riccardo sirri che ci hanno proprio raggiunto per parlare di questa vicenda buongiorno buongiorno allora vittorio arrigoni è un italiano un volontario che vive già da tre anni viveva nella striscia di gaza dove appunto si occupava di attivismo era molto conosciuto in quel delicato territorio proprio per le sue attività legate al volontariato e noi a rimini abbiamo una importante rappresentanza di quella che è proprio l'attività di cooperazione internazionale appunto riccardo sirri è un esponente della ong riminese educaid riccardo tu conoscevi vittorio era una persona con cui avevi avuto a che fare ma siamo conosciuti con vittorio perché al di là di tutto viviamo a gaza nella stessa area per un certo periodo di tempo abbiamo anche avuto gli appartamenti molto molto vicini e questa mattina siamo siamo tutti molto sconvolti per quello che è successo perché è qualcosa di completamente nuovo e sconosciuto e vittorio è una persona di cui chi ha a cuore o ha avuto cuore la palestina può parlare ovviamente solo bene perché è una persona che ha dato tutto il suo tempo tutte le sue energie per rimanere a fianco dei palestinesi di gaza nei momenti più 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 tragici degli ultimi tre anni è stata l'unica persona che è riuscita a dare voce sotto le bombe di piombo fuso e anche e anche successivamente per cui ecco per tutti noi che comunque così operiamo nel mondo della solidarietà internazionale è sicuramente una delle giornate più brutte di sempre appunto dicevo parlavo prima con andrea e ovviamente ogni vita umana ha un immenso valore quello che è successo però stanotte qualcosa di sconvolgentemente assurdo infatti ricordiamo un attimo facciamo un attimo un passo indietro andiamo alla giornata di ieri perché ieri alle ore 11 di gaza 10 italiane vittorio è stato rapito da un gruppo che magari non è così noto conosciuto perché la situazione a gaza è sempre molto complessa e delicata un gruppo estremista islamico il gruppo un gruppo armato insomma i salafiti che lo hanno rapito e hanno lanciato un ultimatum per cui sarebbe stato tenuto in vita altre 30 ore e quindi questo ultimatum sarebbe scaduto oggi alle ore 17 di gaza 16 ora italiana perché questo gruppo chiedeva la liberazione di alcuni rappresentanti appunto del gruppo stesso che erano stati catturati da mass lo ricordiamo la striscia di gaza è governata appunto da amass che a a sua volta è un gruppo piuttosto come dire vabbè è un esponente sicuramente radicale esatto un partito che è stato democraticamente eletto che dire sua massi può dire molto ma non credo che sia oggi assolutamente però che cosa poi è successo durante la notte è stato fatto un blitz nell'appartamento in cui vittorio era tenuto in ostaggio e poi purtroppo le cose hanno preso la piega peggiore perché è stato ucciso e quindi quello che doveva essere questa attesa fino oggi alle ore 16 in cui già si tentavano con anche lo stato di crisi della farnesina insomma di attivare una serie di passi per cercare di liberare questo 36enne tra l'altro anche molto giovane volontario non è stato potuto non è stato possibile fare nulla tra l'altro rispetto a questo ecco andrea zanzini che è referente per la per il gruppo rimini gaza per le esperienze di volontariato insomma nella striscia di gaza per oggi era stato proprio organizzato un momento un presidio qui in piazza gavur nella speranza proprio di così di scongiurare il peggio però magari ecco rispetto a questo vogliamo aggiornare quello che succederà comunque oggi pomeriggio in piazza gavur si oggi pomeriggio alle 16 ci incontreremo a questo punto per ricordare vittorio per ricordare quello che è successo il paradosso per ricordare l'esperienza tutto quello che vittorio ha fatto per la popolazione palestinese e per ricordare il paradosso di quello che è successo questa notte lo diceva riccardo sull'attività dell'international solidarity movement di cui faceva parte vittorio sull'approccio che gli sm ha nell'attività che vengono svolte in gaza nel medio oriente ci sono tante opinioni anche diverse tra loro l'unica opinione diffusa che però ci accumula tutti che vittorio fosse amatissimo dalla popolazione palestinese e questo lo si vedeva non l'abbiamo visto direttamente c'è accolto in qualche modo quando siamo stati nel nel gennaio del 99 tra i primi ad arrivare dopo l'operazione piombo fuso a gaza è stato con noi per tutta una sera per solo per raccontarci quello che che era accaduto in realtà che stava che in parte stava stava ancora accadendo e si coglieva in ogni luogo in cui ci ha accompagnato di ospedali paesi eccetera si si coglieva con con mano se si vedeva benissimo quale era l'affetto che la popolazione palestinese aveva per per vittorio errigoni e cercheremo oggi alle 16 in piazza cavour in qualche modo di di ricordare questo questo affetto vittorio aveva operato un legame particolare con rimini nel senso che come dicevano ospitato la nostra delegazione a gaza ed era stato in collegamento con noi una iniziativa che si svolse al porto di rimini un gemellaggio tra i pescatori di gaza di cui vittorio spesso ha raccontato le vicissitudini le difficoltà le tragedie anche e i pescatori di rimini in quell'occasione si collegò e ci raccontò di questa situazione più volte aveva promesso peraltro una nostra amica stefania lo aveva sentito non più tardi dell'altra dell'altra sera e aveva promesso di venire a rimini e stava per organizzare tra l'altro il viaggio di rientro in italia aveva promesso di venire a rimini per per vederci poi probabilmente per organizzare qualcosa questo purtroppo non potrà accadere allora noi intanto per chi ci sta seguendo in televisione vediamo alcune immagini proprio di gaza e di quello che è insomma significa vivere lì perché comunque è un territorio in gran parte distrutto lo accennavi anche tu prima l'ultimo grande bombardamento è quello denominato piombo fuso è un momento molto delicato per il paese dove tra l'altro il momento in cui tra l'altro arrigoni era presente uno dei pochi stranieri presenti in quel momento e in quella circostanza raccontava nel suo blog e anche soprattutto per il manifesto quello che stava succedendo là è un ragazzo quindi da questo punto di vista è estremamente coraggioso e avventuroso se vogliamo ecco tu che voi insomma che lo avete conosciuto che cosa ci potete raccontare di questa persona ma appunto in queste circostanze è sempre difficile cercare di sintetizzare o comunque di cercare di dire in poche parole cioè di poter raccontare una persona io la cosa che che tengo appunto a sottolineare è che è a ricordare che è stata l'unica persona che ha permesso che durante l'offensiva piombo fuso la voce dei palestinesi la voce di un internazionale che era dentro la striscia ha potuto comunicare a tutti noi che eravamo fuori e che assistevamo inerti al massacro che si stava compiendo che cosa era realmente stava succedendo è stata una voce fuori dal coro in un momento di di grande confusione ricordiamo che tutti i giornalisti erano erano fuori dalla striscia e poi avevano informazioni molto molto sommari è stata una persona che in tutto quel periodo lì era a bordo delle ambulanze per cui cioè sono sono piccole cose cioè piccole cose dette che rendono molto bene la dimensione della della grandezza del dell'opera di questa persona cioè di quanto vittorio è riuscito a mettere a disposizione del popolo palestinese ecco è una persona che di fronte alle lusinghe ma anche di fronte al calore all'affetto di tutti coloro che lo hanno ascoltato che lo hanno letto che hanno che appunto i suoi messaggi da gaza e gli hanno e gli avevano chiesto di divenire più volte in italia in europa a raccontare di persona più più volte ha rifiutato dicendo no al mio posto è a gaza voglio tornare con gli amici palestinesi perché voglio condividere con loro quindi sono queste secondo me le cose un po da sottolineare una persona che ha fatto una scelta solo solidale e radicale e che appunto e ciò che è successo è assolutamente inspiegabile perché come diceva andrea prima se c'è una persona che appariva accolta ben voluta e comunque forse più palestinese dei palestinesi per quanto era riuscito col cuore ad adottare la causa era era vittorio è stato vittorio allora io direi di fermarci un attimo ma continueremo a parlare di vittorio e di che cosa significa fare cooperazione internazionale in quei territori soprattutto poi adesso in questo in questo momento è subito dopo una breve pausa restate con radio e tempo reale